La Neart Gallery, in occasione della terza edizione del festival che Ravenna dedica al mosaico, ha organizzato l'omaggio a Giuseppe Ventura, uno dei nomi storici del mosaico Ravennate. Giuseppe Ventura era un altro dei mosaicisti, degli artisti, del gruppo mosaicisti dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna che, subito dopo la guerra, contribuirono al restauro dei mosaici delle nostre chiese, ma soprattutto a rinvigorire e a ridare molto slancio al mosaico della città. Giuseppe Ventura, all'inizio, dal 50 al 59 circa, fu parte attiva del gruppo mosaicisti dell'Accademia, ma poi dagli anni 60 cominciò ad insegnare all'Istituto d'Arte, quell'Istituto d'Arte che oggi continua ancora a portare e a rigenerare quella che è un'arte antica come il mosaico e che attraverso i giovani di oggi cerca di tramandare al futuro. Il progetto è abbastanza ampio perché oggi si aggiunge una tessera a questo progetto ampio perché è cominciato nel 2006, ogni anno circa l'Associazione Culturale d'Arte ha presentato un protagonista, abbiamo realizzato Signorini, Salietti e tanti altri, Ines Morigi Berti e tanti altri, fino ad arrivare oggi con la nona tessera, cioè il nono volume, piccolo volume, piccola monografia, e l'obiettivo finale vuole essere proprio quello di presentare alla città un secolo di mosaico nella nostra città. Quindi l'obiettivo è quello di realizzare un cofanetto o due cofanetti che in qualche modo possono documentare nel futuro quello che è stato tutto il Novecento a Ravenna. Sara Pietracci per Ravenna ULTV